A Sessore Rizzi alla fine dell'anno è iniziato un percorso che porterà un gemellaggio, comunque a una collaborazione più stretta tra la Valtellina e la Valcamonica, in che cosa consiste? È un discorso che arriva da lontano nella antica amicizia di questi due popoli confinanti, la Valtellina e la Valcamonica appunto con la Prica confinano e sono due territori molto simili sotto tanti punti di vista.